musica 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 vai chiudete la porta vai l'ho chiuso bravo adesso seguitemi e Marzano va già e beh giustamente nelle fosse a fare il terrone ahahahah vorrei andare ad ammazzare uno scheletro che cazzo vuoi come dobbiamo andare a tartarello dai mo eh seguitemi falliti andiamo all'avventura seguitemi 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 non mi passa il bag di stomaco seguitemi ritorno del mollu che cos'è chi non è chi non è cosa non fa? oh oh ma che cazzo è regà 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 c'è un crocifisso c'è un crocifisso regà si c'è un crocifisso ma dove cazzo stai soprattutto qua un crocifisso davvero ma che cazzo? vabbè distruggiamolo c'avete la tnt al grido di Allah questo simbolo del cristianessimo vabbè distruggere questo simbolo ha una costruzione 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 ma che cazzo è? è la potenza del signore la casa sull'albero ma si sposta regà secondo me c'è da fare delle combinazioni per aprire questa cosa dici? secondo me marda non è un cazzo non si può minare? no è ossidiana con il piccone d'argento è un blocco di asciugamano dai andiamo su oh che cazzo io mi hai fatto caca in mano ma che è oh overpowered oh e qua è tipo c'è la roba da pesca è un music disc c'è la canna da pesca qua raga c'è la del grano coltivato oh mardo lo senti sai cosa fare? non senti l'eccitazione generale del gruppo mardo? eh si guarda non senti come abbiamo accolto questo momento con gioia e allegria signor lello lei vede vede qualcosa all'horizzonte terra terra no no è qua marda vabbè ma insomma l'obiettivo di questa sera ma non era andare a farmare ad atlantide abbiamo detto atlantide no la fontana no no abbiamo detto la fontana si infatti ci stiamo andando prendi il tuo piccione qua fallito in merda prendiamo la fontana eh non so dov'è però mo la trovo io scusa ma ditemelo subito bravo marzo ti seguiamo ti seguiamo un porco tuo padre sulla spiaggia ho trovato un'altra costruzione c'è un altro venite 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 dove siete dove siete tu credi a marzano che troverà quello che serve ma dov'è marza eh io sto andando alone in the town no no marzo vieni qua vieni qua che ho visto una cosa celeste devo capire che cos'è perchè se no non dormo sono marza è un fiore eh lo voglio marzano alla scoperta della natura di minecraft ma c'è una croce qua sotto è una nave giallo bisogna andare a explorare mi ha trovato il titanic bene mentre voi andavate a fare che a poco io ho trovato le canne da zucchero, lo zucchero, la treasure map penso che è importante aiuto 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 i libri bravo marzo sei sicuro che sia zucchero marzo eh sto a riconoscere perchè un amico mi ha detto mollura dimmi vedo cazzi all'orizzonte se lo vedi a due se lo vedi a due chilometri il mio mi domando se sia un eclissi solare o il pene di marzano che sta transitando attorno all'orbita terrestre dove è marzano? eh mi sta laggando per esempio tua madre quando non riesce a salire le scale la gente l'aiuta mi sta succedendo una cosa simile che paragone è? ragazzi 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 vai hai trovato un'altra minchiata vai non so cos'è ma è una chiesa è una chiesa preghiamo dai dentro porca Dio c***o dov'è l'ostia di c***o? la pianta mi ha trovato un'altra cesta qua sotto che costruzione che ha che c'è il cloroformio che cazzo è cloroform? eh si eh eh caccate comunque il cloroformio il cloroformio avvicina una chiesa ecco cosa usano i preti per per addormentare i bambini per adescare i bambini vabbè ma io direi usiamo una tnt e gli diamo fuoco ma perchè devi attentare un luogo di culto cristiano? come ti chiami sadram di nome? cioè fammi capire abdul mi chiamo abdallah no abito di qua è stato un piacere lasciato un piacere un commento vieni vieni yoman vieni yoman forse forse sto mangiando quando fai saltare la tnt staici dentro sto mangiando gli orsi italiani stai dentro anche te si si eh no ripetelo un'altra volta che non ho sentito quando fai saltare la tnt staici dentro ah no ripetilo? lo vuoi pulare per favore ripetilo gianlu? yoman cos'è che devo dire? sta rovinando un video gianluca come al solito eh tanto taglia lui quindi qui è ancora qui è ancora qui è ancora è ancora qui